Aaaaaaaaaaaaaaaaah Noi siamo sportivi e scademobili se ci piacciono con quello che se mangiamo poi al giorno se sentimo un corba dobbiamo fare un po' de movimento, no? Stiamo qua in piazza Gaulenti Milano City Uno gretto come me Milano City La missione d'oggi sarà questa Trovare la Feragni con Fedez e portarla a Magna Shattu con me perché insieme potremmo formare lo Chattagnez mi hanno detto di questo bosco verticale eh? io io venivo qua al food district sento proprio l'odore del cibo che mi chiama che mi fa assaggiatore andiamo a cercare qualcosa di sostanzioso e speriamo di incontrarli raga arriva l'assaggiatore e gli Chattagnez mamma mia che spettacolo andiamo proprio a bevemo andiamo a trovare qualcosa qua vedo replay la macchina non mi posso mangiare un fanalino se qua ti sbagli te lavi proprio le caviglie te lavi a vedere va hai capito? eh se avete capito lo scrivo qua sotto papaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara in tendone è così a buffo via butamo a buffo faranno qualche cosa non lo so regano qua vi dico solo una cosa che è immenso ma ce la posso perdere meno male che ho il GPS integrato io au senti io qua vedo assicurazioni banche i libri il circo, la tesla, l'oswatch, dove sta questo food district ragazzi? ma dove andate a mangiare? ma che voi mangiate? vi puoi dare assicurazione qua? i bolli dell'auto? vedo gente che mangia ma c'ha i vertrinelli ma che se acquisti il libro ti danno due piatti di pasta? ma come funziona? da dove viene questo cibario? ma non riesco a capire ragazzi io c'ho fame e indoniamo non chiediamo a qualcuno andiamo in banca va che tanto qua mi hanno tocca chiedere il mutuo qua per piatti di pasta non lo so ma più che altro puoi trovarlo e le spese del viaggio oh aiutatemi trovatemi in posto non a mangiare che io qua vedo solo libri e assicurazioni devo da mangiare assaggiatore Chiara ha accettato l'invito adesso andiamo a prelevarla sotto casa per andare a mangiare uno bello spilatino andiamo Chiara guarda come casco guarda come casco passeggiando in bicicletta accanto a te pronto? delivero? salve! arrivederla! io ti ho messo un petito io sono buona a mangiare andiamo al bosco verde Chiara si arriva eccoci andiamo a mangiare se una cosa va chiama pure quell'altro dai è l'ora di pranzo dica c'è il maschio qua che mi guarda che qua si mangia forte eh a Roma si mangia forte a me hanno mangiato quei mini porchetti dammi a me la porchetta si me la venga a piare ufff ufff c'è i c'è l'animo e ciao io ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.